Noi al mio paese, io sono di Masullas, noi siamo molto devoti a Nostra Signora de Sacosevapai perché è molto miracolosa. Noi a Masullas abbiamo Nostra Signora de Sacosevapai e la Madonna Gloriosa e fanno tutti e due molti miracoli. Noi a Masullas mi raccomanda, è una cosa famoso. Sì, ma l'oretto, ma l'oretto, bambagna.